Ciao a tutti sono Carlo Maria Recchia ho 22 anni e sono un agricoltore di prima generazione e coltivo il mais corvino uno dei mais più antichi del mondo che risale al 3500 avanti Cristo e lo coltivavano già in Maya questo mais è un mais straordinario per le caratteristiche che ha ha lo stesso pigmento del mirtillo e quindi è molto antiossidante previene dai radicali lili inoltre ha il doppio delle proteine rispetto a un mais comune e il 20% in meno di carboidrati quindi è un super punto e cosa ci facciamo con questo mais? La birra! La Crow è una birra artigianale fatta in collaborazione col bierificio Brew Fist è una birra ad alta fermentazione ambrata arricchita dal mais corvino ci troviamo a Formigara in provincia di Cremona dove coltivo dove nasce appunto il mais corvino e tutta la filiera dalla coltivazione del seme fino alla trasformazione alla bottiglia viene fatta sulle sponde dell'Adda tra Formigara e Codogno ed è proprio qui a Formigara dove potete trovare la birra al mais corvino ma in esclusiva per un breve periodo di tempo la potete trovare sulla piattaforma di Crowfunding Whoop Food perché il Crowfunding? Abbiamo fatto in fase sperimentale questa birra abbiamo ricevuto grandi feedback tutti positivi siamo molto contenti e ora vogliamo mettere in produzione questa birra ma per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto Crow si scrive in inglese ma si legge in dialetto questa è la filosofia del mais corvino con le radici nel territorio ma con lo sguardo al mondo quindi ordinate la vostra cassa di Crow e vi pentirete solo di non averne presa abbastanza Bella I Grazie a tutti.